Ciao tesori, benvenuti in questo nuovo video, oggi un get ready with me super easy per andare a lavoro infatti tra qualche ora ho una cliente e ho detto perché non mostrarvi il look che realizzo quando voglio sentirmi in ordine, impeccabile e vi dico già che il focus di questo look sarà una bella base viso e delle labbra stampate che sono il mio look iconico cioè quello che faccio praticamente sempre, mi piace tanto ma prima volevo approfittarne per mostrarvi anche cosa sto indossando perché anche in altri video vi ho detto quanto per me sia importante non solo il make up avere i cappelli in ordine quando vado a lavoro ma avere anche un abbigliamento che sia innanzitutto comodo ma soprattutto elegante e che mi vada a caratterizzare io utilizzo solitamente nero e bianco, questi sono i colori con la quale mi trovo meglio oggi devo dire che sono particolarmente elegante e volevo mostrarvi cosa sto indossando perché sono due capi di Lily Silk è un brand che mi avete visto già mostrare qua sul canale in realtà l'anno scorso indossavo dei capi un po' più invernali dei pantaloni di lana e un maglioncino di cashmere questa invece è un'alternativa più primaverile visto che inizia già ad esserci caldo con una blusa di seta e questo invece è un blazer in lana merino però è molto traspirante per questo trovo che sia perfetto in questo periodo dove non c'è freddo ma non c'è nemmeno così tanto caldo allora la blusa che ho al di sotto ve la faccio vedere senza il blazer perché secondo me è molto bella è fatta in questo modo ha questo dettaglio con le perline e le piume che potete decidere di tenere o di togliere è fatta veramente benissimo qua abbiamo un'apertura nel polsino con una perla a chiusura i bottoncini sono molto eleganti madre perla e lo scollo è a V e questo è il blazer ve lo faccio vedere da un po' più vicino ha qua la catenella con il nome del brand abbiamo dei bottoni dorati che lo rendono veramente molto 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 elegante e una spallina leggermente rinforzata il motivo per cui mi piace questo blazer è il fatto che sia bello sagomato si vede ancora di più quando lo allacciate ma anche così devo dire che si nota parecchio ma cosa molto importante anche se è facile identificare le taglie avete la possibilità di avere il cambio o il reso completamente gratuito quindi capita a tutti di sbagliare la taglia un po' come il colore del fondotinta ma in questo caso abbiamo la possibilità di rendere il prodotto gratuitamente io vi lascio giù nell'info box il link ai capi che sto indossando e il codice sconto che il brand mi ha dato non è affiliato è semplicemente un codice che vi permette di risparmiare per poter acquistare i prodotti adesso inizio a truccarmi e poi vi faccio vedere proprio il look completo dalla testa ai piedi perché secondo me da truccata fa anche proprio un altro effetto il primo step che faccio è utilizzare il Soft Matte Complete Concealer di Nars stavo guardando la tonalità perché ho detto ma che tonalità sto usando utilizzo la 2.4 perché ieri ho preso un po' di sole e quindi il vanilla risulta troppo chiaro in questo momento quindi preferisco utilizzare questa colorazione è un po' più scura è leggermente pescata io la utilizzo per fare un pochino di correzione prima di applicare il fondotinta in questo caso però oggi utilizzo la BB Cream oggi utilizzo la Sublime di Puro Bio utilizzo la tonalità numero 02 questa è meno coprente rispetto al fondotinta della stessa linea un po' più fresca, un po' più leggera ma allo stesso tempo anche lei è coprente perché il fondotinta devo dire che ha una coprenza assurda anche questa lo è però molto di meno rispetto appunto al fondotinta inizio dal centro del viso soprattutto utilizzo la BB Cream perché ho bisogno di idratazione col cambio di stagione ho la pelle secchissima guardate che bello l'effetto della BB Cream proprio bella bella riprendo un attimino il correttore di Nars e rivado qua lo stick potete decidere se applicarlo direttamente sul viso oppure scaldarlo nella mano e prelevarlo dipende anche da quanto siete confident con quello stick io devo dire che con questo di NYX mi trovo abbastanza bene so come utilizzarlo quindi non faccio macchia con altri però preferisco sempre applicarli nel palmo della mano lo utilizzo per fare anche un pochino di contour al naso vado così leggermente qua sotto applico poco prodotto come vedete perché è super pigmentato questo di NYX quindi secondo me non è proprio necessario applicarne troppo sfumo e sto utilizzando lo stesso pennello che ho usato per il fondotinta qua vado proprio sfumare verso l'alto io faccio questo tipo di contour sculpting ma allo stesso tempo bronzing andando verso l'alto perché avendo io appunto un viso squadrato più largo che lungo mi piace un pochino verticalizzare ora utilizzo un pennellino da sfumatura inizio a sfumare qua il contour quando sfumo il contour butto un pochino qua verso il basso tanto poi andrò ad illuminare con il correttore anche qua non mi interessa che sia troppo preciso perché tanto c'è il nostro amico correttore quindi lo lascio un pochino così lo sfumo col dito applico prima il blush in crema utilizzo questo di Saint Laurent non lo utilizzo praticamente mai mi dimentico quasi di averlo è bellissimo guardate che colore meraviglioso stupendo è un colore che potrebbe spaventare però in realtà è un effetto vedete balm molto leggero è questo d'estate che bello soprattutto sulla pelle struccata da proprio quel tocco di pelle sana perfetto su chi ha la pelle normale secca fino alla mista diciamo che per chi ha una pelle grassa meglio prediligere altre formule adesso correttore utilizzo Hourglass mio preferito vi dico anche la tonalità che uso questa è Silk prima utilizzavo Hot il precedente era colorazione Hot però era troppo giallo invece questo è leggermente più rosato anche se forse dal video non so se si può percepire non è troppo rosa anche perché non amo le cose troppo rosate ma non è nemmeno troppo giallo come il precedente io illumino sempre qua nella zona centrale i lati della bocca è leggermente qua per scolpire dimenticavo un pochino anche il mento inizio a sfumare prima i punti luce quindi mento e fronte questo correttore di Hourglass me l'avete visto utilizzare miliardi di volte e vi confermo che resta il mio preferito costa perché comunque non è un correttore economico ma i risultati che vi dà lui in termini di coprenza durata secondo me sono inimitabili poi certo ci sono altri correttori che mi piacciono tipo anche quello di Lancome il Tant Idol si chiama così se non sbaglio ogni tanto io faccio un po' di confusione perché quando hai 2000 correttori è molto bello anche quello però è meno coprente rispetto a questo di Hourglass non va nelle pieghe troppo molto stabile non è troppo matto da seccare è ultra levigante cioè io sono attaccata alla videocamera e penso che si veda quanto è levigante a livello di coprenza secondo me siamo più o meno come lo shape tape però lo shape tape è molto più pesante tampono con il pennello in maniera molto leggera proprio sopra il prodotto del contour allora faccio così lascio un attimino la base mi dedico un attimo agli occhi sugli occhi sto veramente molto basic applico questo prodotto fantastico di Lancome si chiama è questo qui me l'avevo già mostrato si chiama Idole Tint Liquid High Shadow che in realtà io amo utilizzare anche come illuminante lo tampono con il polpastrello mi piace avere un po' di luce sull'occhio è un color champagne molto delicato molto elegante poi prendo una matita per le sopracciglia perché è autofissante a differenza di altre matite più morbide per gli occhi questa è la Their Eyebrow Pencil di We Makeup tonalità 04 faccio una linetta così giusto per allungare un pochino lo sguardo con un pennellino angolato sto tirando sfumando leggermente vedete una cosa proprio molto easy però comunque è un lavoro che fa la differenza una volta che mettete il mascara perché vi vedete proprio l'occhio più liftato utilizzo questo di Mesauda non so se ve l'ho mostrato qua su youtube non mi ricordo è il Femuline mascara nuovissimo di Mesauda ha questo scopolina in anastomero leggermente flessibile con questi dentini e questa forma così leggermente a banana mi piace per il giorno perché va ad allungare in curva le ciglia non appiccica perché avete un effetto volume ma un effetto volume secondo me leggero rispetto ad altri mascara tipo rispetto al panorama di L'Oreal che l'abbiamo visto anche da poco in azione questo ha un effetto decisamente più pulito quindi lo trovo anche sicuramente più adatto a chi non ama l'effetto drama ma preferisce l'effetto più pulito sulle ciglia adatto anche al giorno mascara secondo me molto bello molto clean molto allungante volumizzante non tantissimo ma comunque lo reputo volumizzante ed ha comunque una bella curvatura nonostante io abbia la laminazione noto che le ciglia sono più incurvate vado ad applicarlo anche dall'altra parte a questo punto è il momento di fissare la base utilizzo la cipria di Pat McGrath nella zona di perioculare inizio proprio da qua dall'inizio dell'occhio vado anche ai lati del naso e poi mi sposto verso l'esterno è molto importante fissare anche questa zona perché portando gli occhiali è fondamentale che il trucco da quella zona non si sposti potrebbe andare a segnarsi un po' questo comunque è inevitabile però è importante che non vada a togliersi eccessivamente guardate la differenza incredibile che dà questa cipria adesso facciamo le sopracciglia Maybelline mi ha gentilmente inviato questi nuovi prodotti che sono curiosissima di provare si chiamano Build a Brow 2 in 1 brow pen da una parte hanno la penna per sopracciglia che è una punta extra sottile sottilissima e dall'altra parte hanno il gel per le sopracciglia quindi penso sia anche molto molto comodo da portare ad esempio in viaggio perché io ho una e mi basta per fare tutto io ora provo ad utilizzare questa che è la colorazione 262 black brown le altre colorazioni che ho sono queste la deep brown 260 la 259 ash brown e la 255 soft brown questa qua io utilizzo quella che credo sia la più scura guardate la punta quanto è sottile non ho mai visto una punta così sottile per le sopracciglia guardate che bel tratto le avevo già sbocciate io utilizzo la penna per andare ovviamente a riempire qua questi buchini che ho che non voglio assolutamente vedere voglio le sopracciglia perfette il colore per me è perfetto sembra che scriva anche molto bene l'abbiamo leggermente con lo scopulino proviamo subito anche il gel così vediamo se le tiene in posa oppure no io ho molta difficoltà con i gel a trovare qualcosa che me le tenga ben ferme vediamo com'è lui mi piaceva moltissimo l'applicatore io poi non faccio effetto sobrowse ma le tengo così bello il tratto è sottilissimo bellissimo non vedo l'ora di utilizzarle magari gli altri colori me li metto nel kit che li voglio assolutamente provare e voglio provare proprio su un sopracciglio da disegnare vado con le polveri sul viso utilizzo la mia luminosiglum fusion powder di armani di cui ho la colorazione numero 8 la quale vado proprio a scaldare l'incarnato e fissare ulteriormente rendere long lasting le creme che ho messo prima con questo pennello questo angolato mi sta piacendo applicare i blush perché è ampio quindi mi fa un effetto bello diffuso e per me che utilizzo queste formule cream to powder è perfetto questo è di fluoresis questo blush il numero 10 peony rosy blush questa formula è fantastica è proprio un cream to powder e io adoro i cream to powder perché mi danno la sicurezza e la tenuta di un blush in polvere ma mi donano anche la radiosità e la morbidezza proprio sulla pelle di un blush in crema adesso concludo con le labbra sulle labbra applico lui un rossetto rosso mi piace tanto avere un look semplice avere un bel rossetto rosso questo devo dire che è uno dei rossi più belli che io ho nella mia make up collection è il numero 0 0 0 06 cherry red di wake up cosmetics questi rossetti hanno una durata sulle labbra incredibile sono dei rossetti liquidi matt quindi no su labbra secche devono essere sempre ben idratate ma questo credo di avervelo detto fino allo sfinimento prima di applicare le labbra devono essere ben pulite quindi io passo un pochino di acqua micellare per rimuovere eventuali residui di prodotto fondotinta maschera labbra e poi ovviamente le faccio asciugare quindi non applicatelo sulle labbra bagnate hanno una durata come vi dicevo fantastica sono belli sono leviganti sono meno asciuganti rispetto ad altri rossetti liquidi matt che ho quindi è una formula che mi piace veramente tantissimo vi faccio vedere questo colore perché non siete pronti è troppo bello guardate è splendido se siete inverno come me dovete averlo perché ha una punta di blu all'interno che lo rende favoloso anche l'applicatore così rigido rende l'applicazione molto semplice per avere un buon controllo non ho ripucciato dentro ma ho utilizzato solo quello che ho prelevato l'ho applicato su tutte le labbra adesso posso andare a stratificarlo però prima aspetto che si asciughi questa prima passata adesso stratifico anche se è già intenso però stratificare aumenta la pigmentazione e me lo farà durare ancora di più strato sottile mi raccomando questo è l'effetto del look terminato applico un pochino di setting spray utilizzo così lo finisco questo di mulac poverino non ne puo più i prossimi giorni devo andare a Milano quindi penso che mi farò un giro e farò anche qualche comparella vediamo un attimo a proposito quanti ammelle sono perché io che vi aggenero mi devo sempre mettere mille paranoie 85 ammelle yes vediamo aspetto che si asciughi poi vi faccio vedere anche il look tutto completo mi metto anche le scarpe e direi che mi do anche una mossa perché non voglio arrivare in ritardo dovete sapere che io ho la fissa per arrivare non in all'area ma in anticipo al massimo temporeggio un pochino macchina però devo essere sempre super puntuale ok zoom sul look per farvelo vedere benissimo questo è il risultato una volta terminato questo è il mio look go to quando devo andare a lavoro questo è l'outfit completo mi piace moltissimo ho indossato sotto questo pantalone un po' aderente che ha questo spacchettino qui ovviamente anfibio perché io non immagino la mia vita senza indossare gli anfibi dietro è un po' lunghina la blusa che indosso è tipo vi copre il popò e vedete questo si vede benissimo come il blazer è strutturato e come segua le forme del corpo bellissimo questo è il look mi piace molto e nulla questo è il mio outfit mezzo a tutto il mio disastro che ho fatto qui per truccarmi io tesori vi saluto vi ricordo che tutte le informazioni riguardo i capi che sto indossando il codice sconto di realistica le trovate giù in infobox fatemi sapere cosa ne pensate anche di questo mio go to look e qual è il look di mia amore qualcuno ha fame devo andare da mangiare qual è il vostro look perfetto per andare a lavoro con la quale vi sentite super belle super confident per il video di oggi tesori è tutto io vi saluto vi abbraccio vi mando un grosso grossissimo bacio see you soon ciao Grazie a tutti